e la bimba stai arrivando ma con una mano sola così ti ammazzi la mia ragazza sta facendo la l'arrampicata di pietra abbondante la roccia la roccia sanniti è qui siamo quasi a 900 metri circa infatti si vede torella più avanti guarda guarda che panorama li abrusso non è molto bello il cielo questa è la e di qua ci abbiamo duronia bagnoli del trigno e in fondo in fondo sullo sfondo questo è bagnole del trigno questo è quale torella ce l'hai fatta sa me l'hai visto vedi la macchina c'è il parcheggio da lì vicino sembra un po quella è la montagna di frosorone giù in fondo di là qui è bagnoli del trigno queste che si vede qua vicino l'abbiamo già detto e torella si intravede sullo sfondo lì un po in alto in alto in alto dietro a bagnoli e il museo sanita dovrebbe essere di là tu non ci stai dentro la telecamera moglie vedi vedi come faccio vorresti libero sei verso il cielo in alto in alto in alto in alto in alto in alto ai sac stop